Prestavano soldi con tassi del 520% arrestati padre e figlio e sequestrati beni per 5 milioni di euro. Arriva l'ok dalla regione al finanziamento della mobilità in deroga per 124 lavoratori dell'indotto Blutech. Progetto kick-off giovani regione siciliana e SSD Palermo per lo sport per tutti e non per pochi. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di mercoledì 29 gennaio. Apriamo con una notizia di cronaca. Prestavano soldi con tassi del 520% arrestati padre e figlio e sequestrati beni per 5 milioni di euro. Indagine della Guardia di Finanza nata dalla denuncia di un imprenditore che con un prestito di 450 mila euro è stato costretto a restituire in un anno circa un milione di euro. 20 le vittime accertate tra Palermo e provincia. Vediamo il servizio. I finanzieri di Palermo coordinati dalla procura hanno eseguito due misure cautelari di cui una in carcere e una ai domiciliari nei confronti di due palermitani residenti a San Cipirello padre e figlio per il reato di associazione a delinquere finalizzata all'usura, estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusiva attività finanziaria. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro sette immobili, tre aziende, auto e beni di lusso per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro. Complessivamente sono cinque le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria. A dare il via all'indagine è stata la denuncia di un imprenditore che, stretto dalle pressanti richieste usurarie, ha deciso di raccontare ai finanzieri che a fronte di prestiti per 450 mila euro ha dovuto restituire in un anno circa un milione di euro. Le indagini eseguite dalle fiamme gialle mediante intercettazioni, pedinamenti e l'analisi di documentazione contabile, extracontabile e bancaria hanno permesso di ricostruire un giro di affari milionario alimentato da prestiti usurai che in talune circostanze hanno superato anche il 520% annuo. Circa 20 le vittime accertate, identificate prevalentemente in imprenditori operanti a Palermo e nella provincia. Secondo uno schema consolidato nel tempo, i prestiti venivano effettuati avvalendosi delle aziende riconducibili agli usurai stessi, tutte esercenti attività di rivendita di materiali per edilizia, i cui conti correnti erano utilizzati sia per erogare il prestito che per l'incasso delle relative rate, avendo cura però di produrre fatture per operazioni inesistenti, quantificate in oltre un milione di euro per giustificare i flussi finanziari. In altri casi invece le vittime si rivolgevano direttamente agli usurai, noti nel territorio per la loro attività criminale, per ottenere prestiti di ingenti somme in contanti e rilasciando a garanzia assegni in bianco. L'attività si inquadra nell'ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria attuata dalla Guardia di Finanza e stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Palermo, a contrasto dei più insidiosi fenomeni di criminalità commesse ai danni dei cittadini e a tutela degli imprenditori che operano nel rispetto della legge. Cambiamo argomento, arriva l'ok dalla regione al finanziamento della mobilità in deroga per 124 lavoratori dell'indotto Blutec. Si tratta dei dipendenti rimasti fuori dagli ammortizzatori sociali. Arriva l'ok dalla regione al finanziamento della mobilità in deroga per 124 lavoratori dell'indotto Blutec. Si tratta dei dipendenti delle aziende rimasti fuori dagli ammortizzatori sociali perché percettori della Naspi. A confermare l'impegno della regione è stato l'assessore al lavoro Antonio Scavone che ha ricevuto FIM, FIUM e WILM dopo l'iniziativa di lunedì scorso dei metalmeccanici della CGL che avevano effettuato un'assemblea nell'aula consigliare di Termini Merese. La misura per il biennio 2019-2020 verrebbe finanziata con 2 milioni di euro prelevati dal budget estornato dallo Stato alla regione, pari a 41 milioni proprio per la mobilità in deroga. Per avviare il provvedimento si attende il via libera del Ministero del Lavoro con il quale la regione siciliana ha fissato un incontro a Roma per il 12 febbraio. La FIUM inoltre ha chiesto alla regione di intercedere col Ministero affinché venga emesso un decreto per derogare alla decurtazione degli importi di mobilità per le aree di crisi complessa che in Sicilia sono Termini Merese e Gela. Il segretario della FIUM siciliana Roberto Mastro Simone commenta «Per troppo tempo gli operai dell'indotto sono stati considerati lavoratori di serie B e questo è stato davvero ingiusto. Adesso le istituzioni hanno l'opportunità di sanare questa ingiustizia». C'è la disponibilità della regione, dicono Antonio Nobile, segretario generale FIM CISL Palermo Trapani e Giacomo Raneri, responsabile FIM CISL Blutec, dopo il vertice con l'assessore regionale al lavoro a dedicare parte delle risorse regionali degli ammortizzatori sociali a copertura delle somme da destinare ai lavoratori dell'ex indotto Fiat. Si faccia presto la loro situazione ormai drammatica. Da troppo tempo loro e le loro famiglie sono senza alcuna forma di reddito a causa di un cavillo tecnico. I sindacalisti aggiungono di aver ribadito che è necessario formalizzare una proposta da presentare al Governo Nazionale per dare risposte concrete. L'assessore ha annunciato al tavolo che è stato già chiesto un incontro al Ministero del Lavoro. Riteniamo fondamentale. Concludono che non si perda ulteriore tempo sulla vicenda e che si trovi una soluzione definitiva. I lavoratori con le loro famiglie sono stanchi. Si chiama App News e permette ai cittadini, attraverso il proprio smartphone, di segnalare missioni di cattivo odore, che saranno registrate da un sistema di allarmi che in questa prima fase attivano gli operatori di Arpa Sicilia e di altre istituzioni per eseguire campionamenti manuali di aria ambiente. Il funzionamento dell'applicazione è stato al centro di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo. Si chiama App News e permette ai cittadini, attraverso il proprio smartphone, di segnalare missioni odorigine, che saranno registrate da un sistema di allarmi che in questa prima fase attivano gli operatori di Arpa Sicilia e di altre istituzioni per eseguire campionamenti manuali di aria ambiente. Il funzionamento dell'applicazione è stato al centro di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo. L'applicazione, già sperimentata nell'area di Siracusa, sarà utilizzabile adesso anche dai cittadini di Catania, Motta Sant'Anastasia, Mister Bianco e per la provincia di Messina, nei comuni di Milazzo, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Condro, Valdina e San Pierniceto. La web app gratuita ed anonima consente ai cittadini di inviare le proprie sensazioni georeferenziate in tempo reale, in modo riservato e completamente anonimo ad Arpa Sicilia. Riguardo la localizzazione dei miasmi avvertiti nei comuni dell'area dove l'applicazione è attiva. Aprendo l'app, il cittadino deve selezionare tre campi, il tipo di odore percepito, l'intensità e il tipo di malessere fisico avvertito. L'app Nose è già attiva dal 30 agosto del 2019 sull'area di Siracusa e in questi pochi mesi ha registrato oltre 3.200 segnalazioni da parte di quasi 2.000 cittadini registrati che hanno segnalato 2.400 volte l'odore di idrocarburi e 271 quello di zolfo, 180 quello di solventi. 1.500 segnalazioni hanno riguardato un'intensità di livello massimo, cioè 5, e 1.100 di intensità 4, mentre per i malesseri 1.500 segnalazioni hanno riguardato difficoltà di respiro, 1.300 bruciori ed irritazioni alla gola, 1.100 mal di testa. In una seconda fase l'app Nose innescherà automaticamente particolari campionari di aria ambiente dislocati nei punti strategici delle aree in questione. Le emissioni od origine campionate saranno caratterizzate dal punto di vista chimico per identificarne la pericolosità e utilizzare l'impronta analitica per caratterizzare la sorgente che le emette. Nose è un nuovo sistema di rilevazione delle emissioni od origine che abbiamo sperimentato già dal mese di agosto nella provincia di Siracusa in quel comprensorio e che oggi presentiamo perché lo stiamo utilizzando anche a Catania, Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia e nella provincia di Messina, soprattutto nel comprensorio del Mela. È un progetto ideato dal CNR insieme ad Arpa Sicilia e sarà finanziato inizialmente per due anni, ma certamente troveremo i fondi per reiterarlo. Si tratta in buona sostanza di rendere i cittadini protagonisti della tutela delle loro comunità e dell'ambiente attraverso delle segnalazioni anonime che permetteranno poi non soltanto di individuare il tipo di emissione o di miasma, ma il tipo di indicazione precisa che loro stessi cittadini daranno, perché poi sarà possibile attraverso questo nuovo sistema seguire la traiettoria per arrivare alla fonte della emissione. È un sistema davvero avveneristico che ha riscontrato anche l'interesse dell'Unione Europea e presto ci confronteremo perché per una volta la Sicilia è prima. Torniamo alla cronaca. Sequestrate 8 tonnellate di carne scaduta destinata alle scuole e alle menze. Il controllo in due aziende a San Cataldo e a Caltanissetta. 8 tonnellate di carne sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, dal NAS di Ragusa e dal NIL di Caltanissetta, in due aziende a San Cataldo e proprio a Caltanissetta. La prima assegnataria delle forniture alimentari per le menze degli istituti scolastici a San Cataldo, mentre la seconda opera nel settore della lavorazione e trasformazione delle carni per le menze pubbliche e per la grande distribuzione commerciale. La carne aveva superato i termini di scadenza e vi era stata apposta un'etichettatura contraffatta. Il valore della carne sequestrata è di circa 150.000 euro. Inoltre nel corso del controllo è stata accertata la presenza di tre lavoratori sprovvisti di regolare contratto di assunzione e in entrambe le società il funzionamento di un impianto di videosorveglianza interna sprovvisto di autorizzazione. Sono stati denunciati per tentata frodo in commercio e videosorveglianza non autorizzata un 46enne ed un 41enne di San Cataldo e un 44enne originario di Messina ed elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 10.800 euro in materia di violazione per lavoro nero. Da Marineo a Campo Felice di Fitalia, controllo del territorio in provincia di Palermo ad opera dell'arma dei carabinieri, sanzioni e denunce. Un'operazione importante in un territorio che va da Marineo fino a Campo Felice di Fitalia che ha visto impegnato un numero consistente di uomini. Quali sono stati i risultati ottenuti? L'esigenza nasce principalmente dalla volontà di reprimere e contrastare una serie di reati che si sono verificati nelle aree rurali coincidenti con il Bosco della Filippuzza e i comuni ricadenti in Godrano, Campo Felice di Fitalia, Mezzo Iuso e Marineo. Abbiamo il seguito di un intervento specifico attraverso unità dello squadrone riportato cacciatore Sicilia. Sono stati intensificati controlli con una serie di rastrellamenti delle aree impervie e un controllo di numerose aziende zootecniche e agricole della zona attraverso anche la collaborazione dei carabinieri forestali di Palermo. Sono state elevate alcune contravvenzioni amministrative e durante alcune perquisizioni e rastrellamenti è stato anche rinvenuto all'interno di un'azienda un focile illegalmente detenuto con del munizionamento. L'impiego dello squadrone riportato cacciatore Sicilia è un impiego necessario per queste aree geografiche in quanto le zone, il teatro operativo è difficile da raggiungere da parte dell'arma territoriale. La straordinarietà rientra solo in relazione agli eventi che nel tempo hanno portato a questa esigenza di impiegare un reparto speciale dell'arma dei carabinieri che nasce nel 2017 istituito in Sicilia perché fino ad allora era presente solo in Calabria e in Sardegna. Nasce proprio per controllare queste zone, inizialmente nella zona dei Nebbridi, ma anche nella zona del Palermitano abbiamo questa esigenza di dover arrivare nei luoghi più sperduti. Sarà un controllo del territorio che permarrà e continuerà perché i carabinieri, non solo dell'arma territoriale, unitamente quelli che lo squadrono, continueranno a battere in maniera fitta da tutte le aree, diciamo, delle geografiche ricadenti in quei comuni, a tutela dei cittadini, non certo in maniera repressiva nei confronti delle persone per bene, ma semplicemente per prevenire la commissione dei reati quali abbigeati danneggiamenti che ammengono in quella zona da parte molto spesso di persone che approfittano della distanza dai luoghi centrali. Strumenti digitali 4.0 a supporto delle relazioni internazionali. Country Presentation Cuba è il tema dell'incontro che si è tenuto oggi alla Camera di Commercio di Palermo, Enna. Il convegno ha dato l'opportunità a tutti i partecipanti che intendono esportare in tutto il mondo di entrare in contatto con la rete Enterprise Europe Network. Oggi in Sala Belvedere, nei locali della Camera di Commercio di Palermo, l'incontro tra l'ambasciatore di Cuba in Italia e imprenditori siciliani interessati a saperne di più sulla realtà economico-commerciale dello stato insulare dell'America centrale. Cuba, che ha da poco modificato la Costituzione in materia di investimenti, offre vantaggi fiscali e snellimenti burocratici ai propri partner. Alla giornata hanno preso parte alcune classi della Scuola Enaudi Pareto di Palermo, un modo per approfondire le conoscenze di relazioni internazionali e le opportunità imprenditoriali offerte da Cuba. I rapporti economici e commerciali fra Cuba e l'Italia sono molto importanti. L'Italia è il terzo partner economico e commerciale di Cuba dentro dell'Unione Europea, ma noi speriamo che nel futuro possiamo avviare negozi più ampi. Oggi gli investimenti italiani a Cuba cominciano a crescere. Questo è un desiderio nostro, che si possa sviluppare. tantissimo perché la nostra economia oggi è un momento di sviluppo importante, di crescita importante e pensiamo che la complementarità in tanti settori fra l'economia italiana e l'economia cubana possano far sì che si possano creare nuove opportunità di negozio. E fra questo, in queste circostanze, logicamente i rapporti con la Sicilia e in particolare con il Palermo ci interessa tantissimo perché l'Italia è molto diversa, molto ricca e ci interessa anche il sud dell'Italia. Ci sono tanti punti in comune tra il popolo palermitano e il popolo cubano. Certamente al punto che quando stiamo andando per le strade di Palermo ci sembra essere un po' a Lavana, un po' a Santiago de Cuba, veramente. Siamo popoli che siamo risultati anche di un incrocio culturale molto forte. Abbiamo nella nostra storia, sia la vostra che la nostra, tanti punti in contatto e logicamente il risultato è che oggi abbiamo un carattere molto simile e questo si fa moltissimo piacere. Questo incontro di oggi verte un po' a ratificare l'incontro precedente. Siamo incontrati fine autunno con l'ambasciatore per fare un po' il punto della situazione politica e commerciale tra Italia e Cuba. Ci ha rappresentato le modifiche costituzionali nonché fiscali a favore delle imprese e quindi da oggi parte questo tavolo tecnico che servirà a convincere le nostre imprese ad andare a investire nel territorio di Cuba che è un territorio felice dove a questo punto il fisco e le procedure aiuteranno le suddette imprese. Adesso aspettiamo di capire anche in quale tipologia di commercio intervenire con più facilità e quindi sicuramente seguirà un altro incontro allargato alle imprese della nostra circoscrizione a questo punto. Io mi occupo di grafia e comunicazione per cui sicuramente lavorando molto con la rete, con il web, abbiamo scoperto una serie di servizi e di possibilità che proprio attraverso la rete ci possono permettere di raggiungere anche nuovi mercati. Dal prossimo 21 maggio ci sarà un volo diretto quotidiano Palermo-New York. L'annuncio questa mattina all'Orto Botanico di Palermo nell'ambito dell'incontro organizzato da Culture Media, operatori della cultura e responsabili dei due maggiori aeroporti italiani che si sono confrontati per proporre le buone pratiche per costruire la Sicilia sempre più attrattiva e turistica. Le buone pratiche sono partite dal territorio, dalla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, dalle nostre eccellenze e dal nostro capitale umano. La Sicilia è un capitale umano straordinario, troppo spesso mortificato se non utilizzato, parlo delle nuove generazioni, le loro capacità, i loro linguaggi e le loro competenze. La cooperazione ha nel DNA mettere assieme territorio e capitale umano, un racconto nuovo della Sicilia, la possibilità di costruire delle destinazioni a partire dal patrimonio culturale, a partire dalle nostre bellezze e da questi patrimoni per costruire una destinazione in grado di stare nei mercati globali del turismo. Aggiungo che probabilmente non si può vivere di solo turismo, ma il turismo è una leva di sviluppo straordinaria sia per raccontare una Sicilia diversa, sia per attrarre interessi diversi, sia nell'altro caso per la coesione sociale della regione stessa, una regione dove spesso si vive male, dove la qualità della vita è molto bassa. Sicilia ha una storia di più di 2000 anni, certamente non ha secondo me la capacità di fare rete di accoglienza come hanno altre regioni, penso all'Alto Adige e alla capacità di mettere insieme tutti i sistemi che costruiscono il turismo, il sistema dell'agricoltura, il sistema della ristorazione, il sistema della fruizione pubblica degli spazi pubblici, anche delle spiagge, non c'è un ragionamento sistemico complesso e complessivo, sono cose fatte molto a spot, io vedo per conoscenza personale e per mestiere i rapporti che ha l'Alto Adige anche con le grandi imprese agricole, basta vedere le loro pubblicità, dove il brand e l'immagine, la sostanza della provincia autonoma dell'Alto Adige o Trento sono uno dei punti di forza e uno dei contenuti del valore e dei valori di tutto quello che si produce in Alto Adige. Questa attenzione complessiva per l'ambiente, le sue necessità, questa qualità politica di gestione complessiva dell'isola non è così apparente in Sicilia. Proprio oggi incontriamo una delegazione della compagnia americana United Airlines per discutere i dettagli operativi e tutti i servizi necessari all'inizio del nuovo volo diretto per New York che inizierà, come sapete, il 21 maggio prossimo. Sarà un volo quotidiano per New York, quindi per la prima volta abbiamo un volo tutti i giorni per New York e per la prima volta una compagnia americana a terra in Sicilia. Quindi questo ci fa davvero sperare in uno sviluppo ulteriore del movimento di incoming turistico soprattutto perché le previsioni della compagnia aerea sono quelle di attrarre in gran parte soprattutto passeggeri dagli Stati Uniti verso la Sicilia. Progetto Kick-Off Giovani Regione Siciliana e SSD Palermo per lo sport per tutti e non per pochi. Firmato il protocollo d'intesa. Firmato un protocollo d'intesa con l'ufficio regionale scolastico regionale MIUR e SSD Palermo Calcio e promosso dal Fondo Sociale Europeo. Il protocollo porta avanti il progetto Kick-Off Giovani Regione Siciliana ed SSD Palermo per lo sport per tutti e non per pochi che già a partire da domenica e per i sei mesi successivi porterà allo Stadio Barbera gli studenti degli istituti scolastici aderenti all'iniziativa. Saranno organizzati eventi sportivi, giornate d'incontro, mostre fotografiche e conteste quali gli studenti potranno partecipare grazie al Palermo che metterà a disposizione l'organico della propria rosa, lo staff tecnico e dirigenziale anche per il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei giovani in condizioni svantaggiate. Oltre agli studenti della classe quarta della primaria fino al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado saranno coinvolti anche i giovani dei reparti di lungo degenza dell'Arnas Civico di Cristina Benfratelli. Il disagio sociale non riguarda solo i giovani in età scolare a rischio di abbandono ma anche i ragazzi che a causa di problematiche sanitari si trovano a vivere in una situazione di sofferenza. È un'iniziativa sperimentale che guarda al mondo dello sport come mondo di riferimento di valori e come palestra di vita. Il fondo sociale europeo dà opportunità ai ragazzi così come dà opportunità ai ragazzi lo sport. Mettere insieme sport e fondo sociale europeo significa attrarre la curiosità dei giovani sui valori ma anche sulle opportunità. E questo è il senso che ha unito la società direttantistica del Palermo all'ufficio scolastico regionale a questo assessorato. E questa è la campagna che attraverso la partecipazione dei ragazzi agli incontri, attraverso la diffusione delle notizie sul fondo sociale europeo e attraverso la presenza dei giocatori del Palermo nelle scuole costituirà la rete sulla quale fare menzione ai ragazzi, fare spinta ai ragazzi affinché essi possano credere sempre di più in se stessi e utilizzare le opportunità che l'Europa mette a loro disposizione. Un amore perduto al Teatro Sant'Eugenio a Palermo, la presentazione del libro di Giovanni Taibi. Professore Taibi, un amore perduto, il romanzo a sua firma colpisce rivivere il dramma di un amore perduto. La vicenda questa volta viene affrontata da varie angolature, non c'è solo il punto di vista di salvo del protagonista che appunto è colui che soffre maggiormente di questo amore perduto, ma c'è anche un tormento interiore che attraversa la stessa Anna, un laboratorista femminile che si rende conto forse di aver fatto delle scelte in passato che non le hanno dato la felicità. Questo libro è particolare perché si snoda lungo un arco di tempo di circa 20 anni, riprende l'amore dei due protagonisti al loro esordio, quindi all'età dell'esistenziale e li raccompagna fino ai giorni nostri, quindi fino ai loro 40 anni. Oltre a questa dimensione temporale c'è anche una dimensione spaziale perché i protagonisti si muovono nello spazio dalla Sicilia alla Lombardia a Firenze con puntata a Barcellona, puntata in Grecia, quindi dà anche la possibilità ai protagonisti di muoversi che non è un girovagale fino al stesso tempo, ma un girovagale per chi leggerà il libro lo capirà per cercare di capire, per capirsi, per cercare di indagare a fondo la veridicità del proprio sentimento. Questo libro della profondità, dei sentimenti profondi, dell'amore con la A maiuscola e non come sentimentalismo becero o come banalità da mass media. Ecco, la profondità è anche la capacità di andare fino in fondo nei propri intendimenti, anche nei propri sentimenti. Secondo lei, se volessimo cogliere una peculiarità di questo testo? È un romanzo esistenziale, racconta un percorso che interessa la generalità delle persone. Chi è che non si è innamorato la prima volta? Chi è che non ha avuto delusioni? E chi non ha avuto percorsi accidentati nella vita amorosa? E' un libro molto realistico, un libro che si dovrebbe leggere per un motivo molto semplice, perché credo che ognuno di noi possa riconoscersi con questa esperienza. Se è vero che si può perdere un amore, forse chi ama non perde mai. E io, pur non leggendolo, voglio avere questa timida consapevolezza che chi ama, comunque sia, potrà avere a volte un desiderio o un'aspettativa delusa, ma non perderà mai, perché poi avrà sempre la forza di ricominciare nell'amore. Consiglio a tutti di leggerlo, un amore perduto, ci sono più libri, siamo arrivati al secondo, ce ne sarà un terzo e quindi bisognerà leggerli tutti e tre per capire come finisce questa storia d'amore, sempre che una storia d'amore possa finire. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News. Grazie.